E' in carcere a Pesaro Ezio Di Levrano, accusato di omicidio volontario aggravato della moglie Anna Cristina Duarte Correia, la donna 38enne di origini brasiliane, madre di tre figli, uccisa a coltellate nella notte tra venerdì e sabato. L'uomo 54enne di Brindisi oggi era presente all'udienza di convalida dell'arresto. Di Levrano è arrivato intorno alle 11 al tribunale di Pesaro e davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere. E' provato e preoccupato per i suoi figli, ha detto l'avvocato assegnato d'ufficio Gaia Vergari. Moglie e marito, spiega l'avvocato, non erano in buoni rapporti. Nei prossimi mesi sarà l'avvocato Salvatore Asole ad occuparsi della difesa del 54enne pugliese. I rapporti non erano buoni, c'erano delle tensioni familiari, gelosie, cose di questo tipo, ecco, credo. Ingiustificato sicuramente. Quindi non problemi economici ma gelosia più caldo? Eh, credo. Sicuramente la famiglia non ha una condizione economica buona, però ecco, non ho purato. Ecco, lui si è avvalso oggi la facoltà di non rispondere, quindi potrei dirvi tutto e niente, ecco. Nel pomeriggio di oggi è stato convalidato l'arresto di Levrano dopo il femminicidio avvenuto alle due di notte. Aveva cercato di nascondersi in un campo non distante dall'abitazione. Nulla da fare per la giovane mamma che a causa delle gravi ferite all'addome è deceduta all'ospedale Torrette di Ancona. Anna Cristina Duarte Correia appena una settimana fa aveva abbandonato il tetto coniugale. Voleva separarsi dal marito ma non denunciarlo per maltrattamenti. No, ma di solito urlavano un po', urlavano, sì, aiuto, vabbè, queste cose. E noi siamo qua, adesso è caldo, si sente. Al momento dell'omicidio nell'abitazione a Saltara erano presenti anche i figli della coppia, due maschi e una femmina, che sono stati prima ospitati dai nonni paterni e poi affidati ad una struttura d'accoglienza. Certo, mi ha chiesto dei figli, sì, certo, certo, sono la sua preoccupazione principale. Sotto shock, la comunità del piccolo borgo di Saltara e il comune di Colli al Metau ha organizzato una fiaccolata di solidarietà per giovedì sera alle ore 20.